Fratelli Juventini e sorelle Juventine, benvenuti all'UVENTUSIONS di oggi. Ma prima ho una cosa importante da dirvi. OneFootball è l'app più completa che riguarda il mondo del calcio. Le squadre di Serie A, le squadre europee, la Champions League, il campionato, i movimenti di mercato quando ci avviciniamo, tutte le varie cose, anche il gossip, perché no? Sì, tutto quello che riguarda il mondo del calcio. Quindi, se voi avete uno smartphone, e chi è che non ha uno smartphone, ed è o iOS o Android, non dovete far altro che cliccare qua sotto, nel link in descrizione, e scaricarla. Ricordo a tutti coloro che non lo sapessero che è gratuita. Quindi, come diceva mio caro nonno, a cavallo donato non si guarda in bocca. Veniamo alle news di oggi. Le news di oggi non saranno molto gradite ai cari juventini che visitano il mio canale. Perché? Perché vi avevo detto che vi avrei dato conto della situazione su Ares, il giocatore che la Juventus tentò di acquistare quest'estate, nella finestra di mercato estiva. Perché non sono buone notizie? Non sono buone notizie perché la Procura Federale sta raccogliendo, ricordo per chi non lo sapesse giustamente, perché la Procura Federale è quella deputata a valutare i comportamenti corretti, leciti o illeciti delle squadre che partecipano appunto ai massimi campionati nel campionato italiano, no? Serie A, Serie B, Lega, provi discorrendo. Insomma, in poche parole, la Procura Federale ci vuole vedere chiaro. E nel vederci chiaro, a cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che Andrea Agnelli, sì, proprio lui, il presidentissimo della Juventus, è stato interrogato come persona informata dei fatti. Allora, l'interrogazione che viene fatta da un GIP per una persona informata dei fatti non vuol dire nulla, non vuol dire che Agnelli è sotto accusa. Ma il fatto che abbiano sentito Cherubini, il fatto che abbiano sentito Paratici, il fatto che le dichiarazioni di Suarez, che ora vi cito testualmente, Suarez ha ammesso, attenzione che qui è la chiave di volta della preoccupazione per noi juventini, Luiz Suarez ha ammesso di aver avuto in anticipo le risposte all'esame che avrebbe dovuto sostenere Perugia, che poi di fatto ha sostenuto. Ecco da dove nasce la Magagne, ecco da dove nasce la problematica, ecco da dove nasce l'inchiesta che la Procura Federale sta compiendo nei confronti della Juventus. Voi direte, perché nei confronti della Juventus si giocano in Atletico Madrid? Ma è molto semplice, perché l'organizzazione di questi esami è stata fatta fare tramite l'Università di Perugia da Cherubini, che conosceva il magnifico rettore dell'Università, e da Paratici, i quali fanno finta di niente, fanno i fintitonti, fanno gli ignorri. Ma è ovvio, è ovvio che nel momento in cui la Procura Federale riscontrerà, come credo che accadrà, un illecito sportivo, perché voler tesserare un giocatore, vai passando le regole federali, ovvero se un giocatore non è in possesso del passaporto di comunitario, e tu gli fai sostenere un esame frodando, è chiaro che tu devi pagare dazio. A me costa molto dire questa cosa, però ancora una volta, come se non fosse necessario, mostra, a mio modo di vedere, a titolo personale, l'inettitudine di Fabio Paratici, un personaggio che dove si muove, muove, fa dei danni. Non sa vendere i giocatori, li compra, li strapaga, oppure compra giocatori rotti, o che sono a fine carriera, e addirittura quando ci si mette in mezzo per cercare di prendere un campione, come appunto è Luis Suarez, combina un pastrocchio. Cherubini, diciamo che è il meno colpevole, perché Cherubini ha semplicemente detto, io so come fare per avere il passaporto da comunitario, ma una cosa su cui vorrei farvi riflettere è che Paratici ha intavolato una trattativa con Suarez, formando l'Atletico Madrid, che era, scusate, l'Apsos, il Barcellona, che voleva, diciamo, ingaggiare il giocatore per la Juventus, dando per scontato che avesse il passaporto da comunitario. Cioè, hanno intavolato prima la trattativa e poi gli hanno chiesto, ma tu hai il passaporto? E lui gli ha risposto, no, c'è la mia moglie, ma io non ce l'ho da comunitario, vorrei averlo. E così è nata tutta la faccenda, la genesi di questo pastrocchio. Ora, molti di voi mi chiedono sempre nei commenti, siccome ci tenevano che ne parlassi, e io ovviamente cerco di parlarne quando mi documento a fondo sui fatti, che cosa rischia la Juventus? Allora, nell'ipotesi ottimistica, un'ammenda, ovvero una multa, nei confronti della società Juventus, è interdizione nel pubblico esercizio, quindi del suo mestiere, perché Rubini e Paratici, ovviamente nell'ordine di tot, tre mesi, sei mesi, un anno, due anni, non si sa, che molti di noi non piangerebbero, credo, detto fra noi, diciamolo fra di noi. Ma, siccome Paratici, in particolare, è il direttore dell'area sportiva della Juventus, perché Agnelli lo ha promosso a tale guisa, potrebbe anche, nell'ipotesi pessimistica, essere penalizzata di punti nel campionato corrente. Non rischia assolutamente la retrocessione per un motivo molto semplice, che vi spiego in maniera molto chiara. Luis Suarez non è mai approdato alla Juventus, non ha mai disputato una partita con la maglia della Juventus, e quindi non possono imputare che la Juventus ha approdato nel campionato a livello di partite giocate. Non so, potrei farmi un esempio. I passaporti falsi di Recoba. All'epoca, se ci fosse stata giustizia, l'Inter sarebbe dovuta essere penalizzata, avrebbero dovuto mandarla in Serie B, e tutte queste cose, no? Purtroppo, all'epoca, c'era una giustizia che era un po', diciamo, balzana, era un po' filo milanese, non filo milanista, filo milanese, proteggeva Milano e Inter, e un po' meno la Juventus. Comunque, la procura federale ha di dovere quello di controllare, così come ci sarà il processo per la Lazio, per i famosi tamponi farlocchi del buon lotito, questa è la stessa cosa che accadrà per la Juventus. Ripeto, l'ipotesi ottimistica, ammenda e sospensione di qualche mese per Cherubini e Paratici. L'ipotesi pessimistica, sospensione, non credo radiazione, di Paratici e di Cherubini, e ovviamente penalizzazione della Juventus per il campionato in essere. Quindi, non so, la Juventus arriva nelle prime quattro, nelle prime tre, nelle prime due, gli danno dieci punti di penalizzazione, se questi dieci punti la fanno arrivare quinta, la Juve l'anno prossimo non parteciperebbe alla Champions League. Questa è la situazione ad oggi, 16 marzo 2021, di Suarez. Ovviamente, io rimarrò vigile e attento, vi darò conto di ciò che accade. Ho impiegato molto tempo per arrivare a tutte queste informazioni, ho sentito i miei colleghi giornalisti che seguono la cosa da vicino, mi sono documentato, ho ovviamente sentito anche la mia fonte che è vicina al mondo Exo, come voi ben sapete, e questo è il risultato. Diciamo che non sono molto tranquillo, se dovevo dire la mia in finale. Non sono per nulla tranquillo. Questa cosa mi spaventa molto, mi preoccupa, perché nel momento in cui noi stiamo cercando di fare una rincorsa, credo impossibile, all'Inter, e ovviamente per scavalcare il Milan, cosa non impossibile, dovesse capitarci questa spada di Damocle, tra capo e collo, come si dice dalle mie parti, che ci dà una mazzata, addirittura ci butta fuori dalle quattro, delle Champions League, sarebbe veramente una cosa tristissima. Ecco, allora io a questo punto, dovesse accadere questo, in maniera formale ed ufficiale, in qualità di YouTuber, che ha un canale che parla di Juventus, e solo di Juventus, dovesse accadere questo, io chiedo ufficialmente, caro John Elkan, la testa di Fabio Paratici. Se Paratici, non soltanto ha costruito una squadra insulsa, ma ci fa anche penalizzare o squalificare, così, come avete fatto fuori Luciano Moggi, Bettega e Giraudo, ti chiedo, John Elkan, le chiedo, le do di lei, di far fuori Cherubini e Paratici, perché di fronte all'inientitudine e all'incapacità, noi, Juventini, non ci stiamo. Fino alla fine Forza Juve, Forever and Ever, Hubert Halles, Eterno di CR7, Paratici out. Ciao. Ciao.